Prima di tutto grazie di essere venuti a tutti, sono Matteo, Matteo Zazzara, produco biciclette da sette anni attivamente. Ho un marchio che si chiama IRD, si chiamava Iride Modena fino a poco tempo fa però ci siamo un po' allargati. Enrico lavora al Fab Lab di Milano, l'Open Dot, mi ha aiutato a rendere degli utensili da cucina trasformarli in utensili. Io quello che cercherò di fare in quest'errore è darvi un insieme di massima di quello che si può ottenere dalle riparazioni giornaliere, dai piccoli problemi che si incontra, soprattutto conoscere il mezzo, conoscere i materiali. Il canotto reggiselle è un punto grasso, vuol dire che la parte che viene infilata va ingrassata tantissimo. Chi è che voglia di sporcarsi le mani? Lui, tu. Allora, copertone, camera d'aria, almeno 3-4 pompate, tutto destra-sinistra, destra-sinistra. Tac, fate aderire perfettamente il bordo esterno e poi partite a mettere dentro, sempre con le mani. Dalla parte opposta alla valvola, destra-sinistra, destra-sinistra, arrivo qua e poi spingo. Finito, va bene. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie.